Venerdì pomeriggio allenamento per la formazione di Stefano Colantuono, nel Mirino c'è sempre il Genova e la sfida di domenica pomeriggio al Luigi Ferraris sarà fondamentale ottenere un risultato positivo per uscire dal momento difficile e soprattutto per condannare magari una squadra come il Genova a posizione di classifica che assolutamente l'Udinese vuole evitare. Sarà già una sfida salvezza, sarà già una sfida dove la squadra di Colantuono dovrà cercare di dare il massimo. Oggi la formazione si è allenata nella consueta seduta tecnico-tattica del venerdì, il tecnico ha provato la formazione che potrebbe cercare di dar fastidio alla squadra di Gasperini. Ovviamente per noi questa fase dell'allenamento era off-limits, però possiamo assicurare che i ragazzi si sono allenati con grande grinta e con la voglia di riuscire ad ottenere finalmente qualcosa di positivo. differenziato l'allenamento per il capitano Totò di Natale così come per Kuzmanovic, Vague, Pasquale e Domizzi, anche Armeron ha preso parte alla seduta con il gruppo, tutti questi giocatori sono ovviamente in dubbio per la convocazione che verrà diramata nella giornata di domani. Un piccolo sorriso durante questa sessione di allenamento ci hanno regalato i portieri che si sono sfidati a vicenda, a una sessione di allenamento molto simpatica per loro, molto cariche, insomma hanno grande voglia anche loro di riuscire a dimostrare di essere ancora assolutamente carichi per questa sfida. In particolare ci ha sorpreso Alex Brunner, il collaboratore dei preparatori dei portieri, che ha dimostrato di avere un destro che secondo me potrebbe addirittura giocare in massima serie. Ma al di là di questo piccolo aspetto, insomma la squadra è davvero molto carica e motivata per far bene, vuole ottenere risultato subito con il Genoa e regalare una gioia ai propri tifosi.